Sieropositività, una parola che sin da quando è stata coniata incute un grande timore, soprattutto a causa delle aspettative che crea. Questo perché l'HIV o virus dell'immunodeficienza umana provoca la cosiddetta IDS, ovvero sindrome da immunodeficienza acquisita, provocando l'abbattimento delle difese immunitarie e quindi esponendo il soggetto di infezioni molto frequenti. Come tutti i virus, per potersi replicare necessita infatti di un ospite cellulare, nella maggior parte dei casi, ognuno di questi presenta una preferenza o tropismo per uno specifico tipo di cellule, e la patologia che causano è proprio riflessione di questa preferenza. L'HIV però presenta un tropismo tanto peculiare quanto pericoloso, i linfociti TCD4 positivi, anche conosciuti come T-Helper, il cui compito è quello di assistere alla risposta immunitaria producendo le molecole note come citochine, che inducono l'attivazione di altre cellule del sistema immunitario come i macrofagi. Tale virus rappresenta quindi il guastatore per eccellenza, colpendo direttamente il sistema immunitario. Perché però questo avvenga in maniera completa, è necessario che il virus si diffonda in buona parte dei linfociti, cosa non facile visto che solo in un millilitro di sangue ve ne possono essere fino a 5.000. Ed ecco quindi che si rende necessario studiare l'evoluzione della patologia e quindi il comportamento dell'HIV nell'organismo umano. Tutto inizia al momento zero con l'ingresso del virus nel circolo sanguigno. Le particelle virali sono localizzate nel sangue e nello sperma e questo limita il contagio ad eventi come utilizzo di siringhe sporche, il rapporto sessuale non protetto e gravidanza con passaggio trasplacentare. Il virus non si trova né nella saliva né nel sudore né in altri liquidi corporei, per cui è possibile baciare e condividere il bagno con una persona infetta senza pericolo di contagio, soprattutto perché il virus è molto fragile e anche in ambiente idoneo non sopravvive per più di 72 ore. Una volta entrato nell'organismo, il virus entra in contatto con la prima linea di difesa del corpo, i linfociti T della memoria ed i macrofagi, dando inizio alla fase acuta. Aspetta, non avevamo detto che... L'HIV però presenta un tropismo tanto peculiare quanto pericoloso, i linfociti Tcd4 positivi. Esatto. Questo perché l'HIV possiede delle varianti o ceppi denominati M-tropiche o T-tropiche, proprio perché sono in grado di colpire i macrofagi o i linfociti T. Tali cellule attaccano con coraggio e determinazione il virus, ignare del fatto che questo segna la loro condanna, in quanto il virus durante il suo processo replicativo produce una proteina nota come V+, in grado di distruggere la membrana, e questo porta a morte in massa dei linfociti. Poiché le mucose sono la principale sede dei linfociti Tcd4 positivi, questo determina una forte riduzione del loro numero, fino a 500 unità per millimetro cubo, contro le mille fisiologiche. Contestualmente si ha la diffusione del patogeno in circolo, processo noto come biremia. Questo porta all'attivazione della risposta immunitaria primaria che causa la comparsa di una condizione nota come sindrome simil-influenzale, con sintomi come febbre, malessere e linfonodi ingrossati che iniziano dopo circa 3-6 settimane dal contagio e hanno una durata di circa 7 giorni. Questa è una fase molto critica dell'infezione, in quanto spesso viene trascurata dal soggetto, soprattutto in seguito a quello che accade dopo. Il sistema immunitario infatti possiede nella sua armata una divisione di cellule dette APC o cellule presentanti l'antigene, che sono in grado di isolare ed esporre sulla loro superficie gli antigeni dei patogeni. Fungono quindi da team di ricerca e recupero, in quanto una volta raccorti tali antigeni raggiungono le diverse stazioni linfonodali in modo che i linfociti B possano produrre anticorpi adatti così da abbattere la viremia, permettere il ripristino parziale della conta leucocitaria e la scomparsa dei sintomi. E' questo il momento in cui un soggetto diventa siero positivo, poiché appunto nel suo siero, ovvero la componente liquida del sangue dopo aver rimosso i fattori della coagulazione, presenta gli anticorpi contro l'HIV, segno che si è venuti a contatto col patogeno. Nella maggior parte delle altre infezioni questo segnerebbe la fine della patologia, ma l'HIV è differente. Esso è un retrovirus, ovvero possiede come codice genetico un filamento di RNA che all'interno della cellula viene convertito in DNA. Normalmente nelle cellule per la sintesi delle proteine questo avviene al contrario, mentre invece il filamento di DNA sintetizzato da parte delle particelle virali viene inserito nel codice genetico della cellula ospite. Questo meccanismo, tanto terribile quanto affascinante, fa sì che la cellula non solo non sarà mai in grado di debellare l'infezione, ma finché sarà vitale produrrà particelle virali sottraendo energia alla propria attività biologica e rischiando di andare incontro a morte. Per cui il virus raggiunge le diverse stazioni linfonodali tramite le APC, dove infetterà progressivamente tutti i linfosciti T-NAEV distanziati. Quando però si ha l'attivazione della risposta anticorpale al termine della fase acuta, succede un evento curioso che ancora oggi non è stato del tutto compreso. Per qualche ragione, l'abbattimento della viremia, la replicazione virale si riduce al punto in cui le cellule infette sono capaci di sopravvivere pur continuando a produrre altri virus. Questo segna l'ingresso nella fase di latenza, periodo in cui il virus si diffonde lentamente in tutto l'organismo senza però dare nessun segno di sé, ad eccezione di una lenta riduzione del numero di linfociti, stimata nell'ordine di 1 o 2 miliardi al giorno. Questa fase può durare diversi anni, fino a quando, per motivi non del tutto noti, la replicazione virale subisce un'impennata e questo provoca un crollo massivo della conta leucocitaria a causa della diffusione dell'infezione. Quando i linfociti T scendono sotto le 200 unità per millimetro cubo, il soggetto va incontro ad infezioni da germi cosiddetti opportunisti, ovvero patogeni che normalmente in soggetti sani non sono abbastanza virulenti da causare malattie, ma in soggetti immunocompromessi possono replicarsi facilmente. Questo include infezioni fungine come la candidosi o la polmonite da pneumocisti giroveci, infezioni parassitarie e batteriche estese, nonché la comparsa di patologie tumorali come il sarcoma di caposi, poiché il sistema immunitario protegge anche dai tumori, nonché neofropatie ed encefalopatie causate dal virus stesso. Fino a qualche tempo fa questa fase spesso risultava nella morte del paziente, poiché non vi era modo di contrastare l'azione del virus, ma oggi è stata messa a punto la HART, ovvero una terapia antiretrovirale che utilizza un misto di farmaci capaci di limitare fortemente la replicazione virale. Tale terapia però è efficace solo quando è iniziata precocemente, poiché non elimina il virus dall'organismo, per cui se iniziate in fase avanzata quando la conta leucocitaria è già ridotta, la distruzione dei linfociti non può essere invertita. Per cui è indispensabile, qualora si abbia il sospetto di essere stati infettati, fare tutti i controlli del caso, in modo da poter eventualmente iniziare la terapia, così da evitare la comparsa dell'AIDS vera e propria e condurre così una vita normale. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento, in caso affermativo mettete mi piace e iscrivetevi al canale, questo mi dice che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook ed Instagram e se vi piacciono i nostri design potete trovare queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!